La scelta di Alfredo Balduzzi Personaggi Anna Mario Scena La cucina tinello di un appartamento modesto. A sinistra è la porta d'ingresso. Di fronte, la porta che conduce negli altri locali. L'immaginaria facciata dell'appartamento che dà sulla strada è al proscenio. Davanti al boccascena, quindi, si trova un ipotetico balconcino con porta-finestra. Anna è a destra, davanti ai fornelli. All'improvviso si spalanca la porta di sinistra. Entra Mario agitatissimo, come chi ha inseguito ed ha corso a lungo. Mario richiude subito la porta. Mette il catenaccio. Rimane immobile con la schiena contro lo stipite e respira profondamente per calmare il suo stato di agitazione. Mario! Mario! Ci siamo! Mio Dio! Di là è tutto chiuso? Credo di sì. Assicurati! Cosa vuoi che serva? Se non si può fare altro. Di là è a posto? Tutto sbarrato. Chiudiamo anche quella? Non tutta. L'appartamento non deve sembrare abbandonato. Darebbe subito nell'occhio. Dici? Certo! Aspetta, vado io! No, starteni lì. Dalle finestre di fronte è facile vederti. Posso andare, fornelli? Non ne puoi fare a meno? Ho roba sul fuoco. Spegni tutto, allora. Giù! Passa! Portami un bicchier d'acqua. Quanti sono? Come si fa a sapere? Volevo dire, ne hai visti molti? Devo stare lì, quando arrivano, a contarli? No, si capisce. E poi volevo venire subito qui, ad avvertirti. Hai fatto bene. Tutto di corsa. Non so come ci sono riuscito. Povero Mario. E da quando ero ragazzo, che non corro più? Non ti sei ancora ripreso? Passerà. Come hai capito che stavano arrivando? Stai scherzando? Sono giorni e giorni che non faccio che aspettarmeli da un momento all'altro. Mi è bastato il più piccolo segno per accorzommene. E gli altri? Vuoi che mi preoccupi degli altri? In questi momenti? Voglio dire se sei stato il solo a capire. Zitta! Cosa c'è? Mi è sembrato di sentire, ma non è nulla. Ronzi nell'aria. Rissonanze che si sovrappongono, si intrecciano. Sei stato il solo a correre via, oppure l'hanno fatto anche altri? Quelli che hanno capito. Come me. Alcuni sono rimasti allora. Non c'era tempo per spiegare. Naturale. Che succederà ora? Tutto è possibile, lo sai. Per esempio? Preparati al peggio, così non avrai sorprese. Non riesco a sopportarla, questa incertezza. Dai giù, ti ho detto! Possono vederti. E quelli per strada che camminano tranquilli? Vuoi prendere esempio da chi non sa, adesso? No, ma... Oppure dagli incoscienti? Non vorrei che tu ti preoccupassi più del dovuto. Ah, questo pensi? Un bel ringraziamento perché sono corso ad avvertirti. Non volevo dire questo, scusami. Meglio essere egoisti, a volte. Ti ho chiesto scusa. Hai sentito? Che cosa sarà stato? E che ne so io! Veniva dalla strada, mi pare, ma nessuno ci ha fatto caso. Guarda, tutto come prima. Incredibile! Sembra che non abbiano orecchie. Forse non gli hanno dato importanza. Per chi non sa, è stato un rumore qualsiasi. La saraceniesca di un negozio, magari. Non si spiegherebbe altrimenti. O forse era davvero un rumore qualunque, che ci ha allarmato soltanto perché noi sappiamo. Anche questo può essere. Stai giù! Sei troppo esposta così! Perché? Secondo te per colpire hanno bisogno di vedermi. Se per essere sicuro bastasse nascondersi, allora... Naturale che non basta. Ma nascosta sei una delle tante. La tua scelta è affidata al caso. Così allo scoperto sei un bersaglio a portata di mano. Attilio e Lucia. Che cosa hanno fatto? Abitano in periferia, no? Se quelli convergono verso il centro, sono già passati da loro. Si potrebbe telefonare per sapere. Eh, proprio perché sono lì. Ti sembra il caso di telefonare? Ma che cosa ne sanno di chi sta chiamando al telefono, scusa? Ma perché tu sai quali strumenti abbiano? Di quali mezzi si servano? Via, Mario! Una telefonata fra le migliaia che verranno fatte in questo momento. Non parlare se non senti la voce di Attilio o di Lucia. Se risponde la voce diversa, butta giù subito! Va bene. E non stare in piedi a telefonare? No, porta a terra l'apparecchio. L'ultima cifra è un 6 o un 9? Un 6. Avevo fatto giusto allora. Che strano. E per la seconda volta? Cosa c'è? Non risponde? È un suono diverso, non l'ho mai sentito. E tu? No, mai. Chiudi! Pensi che ci possa essere pericolo? E che ne sappiamo? Vedo che sei impallidita. Quel suono sconvolgente. Come il vento, quando entra nei camini. Me lo sento ancora nell'orecchio. Ora provo con Francesca. Un'altra volta. Voglio sapere che cosa è successo. Non ce la faccio a restare con questa paura addosso. Lo sai il prefisso di Francesca? L'avevo segnato qua, sopra. Eccolo! Lo stesso suono. Chiudi! Ti tratterà di un guasto. Che cosa vuoi che sia, se non di un guasto? Forse un guasto al nostro telefono. Proviamo. A chi telefoni? Al negozio, in fondo alla strada. Pronto? Mi scusi, ho sbagliato. Il nostro apparecchio funziona. Forse è la zona che è isolata. Già. Ma che ampiezza ha questa zona? Che numero cerchi? Voglio telefonare più distante. Ecco. Magazzini risparmio. Risponde. Ho sbagliato, scusi. Ancora più distante. Albergo centrale. Scusi, ho sbagliato. Ristorante commercio. Il vento. Eppure è a cinque o sei isolati dall'albergo centrale. È solo un guasto. Non può essere altro. Vuoi convincere te stessa? Che cos'è allora, se non un guasto? Quello che senti, forse... Vuoi dire che... Forse non c'è che quello. Non c'è rimasto altro laggiù. Il vento è basta. No, no. Io mi rifiuto di pensare che... Calmati! E non dire stupidaggini. Che cosa significa io mi rifiuto? Dipende da te accettare o rifiutare? Hai ragione. Non so più quello che dico. Dai giù intanto. Ancora col telefono? L'albergo centrale è a cinque o sei isolati dalla zona del vento, no? Dovranno pur sapere che cosa è accaduto vicino a loro. Pensi che abbiano voglia di dirtelo? O che potranno? Dirtelo! Proviamo. Tre, cinque e sei. Che succede? Il vento. Anche lì? Ma se poco fa rispondeva. Vengono avanti. Zitta! Giù adesso. E basta con questo telefono. Dobbiamo starcene qui, in silenzio. Senza muoverci. È tutto un fronte compatto che viene avanti. Non lo sappiamo. Può darsi invece che cerchino dei buchi nella rete. Di qua non passeranno sicuramente. Non mancano di certo i buchi per passare. Di fuori è come se non fosse successo nulla. Come se non dovesse succedere nulla. La gente fa quello che fa di solito. Lavora. Perde tempo. Si diverte. Sono quelli che non sanno o che non vogliono credere. Sono i rassegnati, invece. Vuoi dire che hanno accettato quello che sta per accadere? Che cosa c'è di strano? Non l'ha accettato ognuno di noi fin dalla nascita? La tragedia che deve calarci addosso? Sono le occasioni straordinarie come queste a turbarci. Che cos'è l'auto che guidiamo? Un coltello impugnato? Una finestra aperta? Non sono tutte occasioni straordinarie come le chiami tu. E le malattie, quelle incurabili, che ci piombano addosso? È anche un calcolo delle probabilità da fare. L'incidenza del rischio da misurare. Eccole le nostre difese. Le statistiche. 2%, 3%, 10%. Che percentuale abbiamo di cavarcela adesso? Forse nessuna. Ma giù nella strada tutti continuano la solita vita. Non tutti sono al corrente. Certo. C'è chi era segnato, chi non sa, chi non vuole sapere. E c'è chi fa finta di non sapere. Sicuro? C'è chi si dimostra innocente per nascondere la paura. Anche quello è probabile. È certo, ti dico. Una maschera di indifferenza sulla propria disperazione. Ma a che serve? Cosa vuoi dire? Questo gioco di dissimulazione. Per chi lo fanno? Per la loro tranquillità interiore? O per dimostrarsi coraggiosi di fuori? Un po' per l'uno, un po' per l'altro motivo. Oppure per gli altri. Per quelli che stanno arrivando. Vogliono assumere un atteggiamento che dica non preoccupatevi per noi. Vedete, per noi tutto è perfettamente normale. Noi pensiamo ai fatti vostri. E voi potete fare quello che vi pare. Tu pensi addirittura che... Sì. Ma allora c'è un gioco da fare. Più facile. Più redditizia. Quale gioco? Perché restare in mezza strada? Perché fingersi indifferenti soltanto? Neutrali? Cosa vuoi fare? La mia scelta. La nostra scelta. Spiegati. Ecco. Vado a spancare la finestra. Cosa fai? In nome di Dio! Così? Luce, aria! Sei impazzita? No, sto perfezionando il mio gioco. L'unico che può rendere qualcosa. È inita per noi. Siamo salvi, se c'è ancora una possibilità di salvezza. Ora facciamo musica. Gli diamo il benvenuto, capisci? Tu vorresti? Voglio fare una festa. Su, in piedi, vieni. Dimostriamoli che siamo dalla loro parte, che su di noi possono fare assegnamento. Ben se sia così facile ingannarli. Forse ne hanno bisogno di noi, della nostra collaborazione. Vieni. Benvenuti. Evviva! Più forte la musica, la devono sentire dalla strada. Così. Evviva! Abbiamo una bottiglia di champagne da qualche parte. Ricordi dov'è, Mario? No. Lo so io. Stappala. Io vado a prendere le coppe. Se c'è una possibilità, una sola è nostra. Capisci? Evviva! E poi, chissà che per noi non vada meglio, veramente. Che i nostri guai finiscano per sempre. Su, brinda con me. Evviva! Benvenuti, finalmente. Benvenuti!